La decima tappa del mondiale superbike alle porte e San Martino del Lago, il comune nel quale sorge il Cremona Circuit, si sta preparando ad accoglierla. Proprio oggi si è svolto il penultimo tavolo tecnico in questura tra la vice prefetto Gian Paola Modolo e il sindaco di San Martino del Lago, Dino Maglia, per definire un piano sicurezza che preveda il coordinamento di forze dell'ordine, si stima ci saranno centinaia di agenti a presidiare l'area, protezione civile 118, oltre ai vari accorgimenti viabilistici richiesti dall'evento. Verrà infatti chiuso al traffico il tratto di via Giuseppina compreso tra Cingia De Botti e Solarolo Rainerio. Il coinvengimento di centinaia di forze dell'ordine, però posso assicurare che è tutto posto. Evento straordinario per il comune di San Martino del Lago, primo mondiale superbike 2024 che si ripeterà per altri quattro anni. È un evento eccezionale per il territorio che può portare solamente benefici dal punto di vista occupazionale, dal punto di vista di far conoscere la bellezza del nostro territorio e per far conoscere anche i nostri prodotti gastronomici. Il problema grosso è se dovesse esserci maltempo, però c'è una bomba d'acqua. Vorrei ringraziare anche la Polizia Provinciale e la Protezione Civile che si è adoperata per eventuali alluvioni. Anche i parcheggi rappresenteranno un nodo cruciale per la gestione di un evento di portata mondiale con un'affluenza senza precedenti per l'area. Gli abitanti di San Martino del Lago sono 390. Quanti ne aspettate? Qui 15 mila, 20 mila. Ci sono 3 parcheggi, è già tutto studiato a Taolino. Ci sono un parcheggio a ovest, un parcheggio a est e un parcheggio a sud. Per chi viene da Milano avrà il parcheggio a ovest, per chi viene da Verona avrà un parcheggio a est e per chi viene dalla parte di Parma, Lusola, Casamaggiore, ci sarà un parcheggio a sud.